Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Roberto, Roberto... Roberto, 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 Roberto Roberto, aquí está mi amigo Roberto, tío, estamos haciendo un directo Roberto no ha visto no ha visto a nadie no ha visto a nadie arco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.